Nella sanità moderna si usano sempre di più le tecnologie digitali. Le tecnologie digitali sostanzialmente usano delle macchine per prendere i dati che vengono dal paziente, che descrivono la sua pallidologia, la sua malattia, la sua terapia, e li trasmettono a dei sistemi, sempre con delle macchine, che fanno in modo che questi dati generino poi una risposta sanitaria adeguata. Questa caratteristica è veramente molto importante per tutti noi, perché ci consente di fare una medicina molto più vicina alla persona, molto più personalizzata sulle proprie esperienze, sulle proprie necessità, e molto più attenta al cambiamento nel tempo della situazione della persona stessa. Per raggiungere questo obiettivo però occorre una gestione dei dati molto diversa da quella a cui siamo abituati. I dati digitali si muovono in modo molto rapido, devono essere condivisi, perché possono essere utili anche per la ricerca, oltre che per la persona, ma devono anche essere protetti da un uso non corretto o anche addirittura da un uso illegale dei dati. Quindi dobbiamo proteggerli, ma anche saperli condividere. Dobbiamo poterli utilizzare oggi e giorno per giorno, nel caso specifico di ogni persona, per curarla al meglio. Queste sono sfide molto importanti, perché non sono solo tecnologie, anzi, forse la tecnologia è l'ultimo dei problemi, ne abbiamo tantissima. Il punto più importante è che la sanità nel suo complesso deve riorganizzare i propri processi di lavoro. E questo comporta uno sforzo da parte dei professionisti, da parte dello Stato come organizzatore, e da parte anche dei pazienti, che devono imparare ad utilizzare correttamente gli strumenti nuovi. Non è una cosa impossibile, ma ci vuole soltanto un po' di impegno.